No, secondo me alcuni erano molto faccati, altri, cioè come io ero un danziato tale e non sapevo cosa aspettare, quindi... Però no, nel complesso secondo me era una... Però c'era qualche elemento che spiccava la danza. Ok. Allora, che lettera è uscita per l'orale? La S. E voi siete? Io sono Q. Io P. Ok. E noi siamo in secondo giro. Sì, perché noi siamo divisi in francese e tedesco. Ok. E preferivate essere all'inizio o all'inizio? Considerando che è una maturità nuova con queste tre buste. Io tra i primi, sì. Nonostante voi non sappiate bene la struttura. Perché poi dopo un po' magari i professori si stancano di sentirti ascoltare, quindi fanno domande magari più specifico o complicate, quindi... Ok. Ok.